Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Buscarini e sono un coreografo. Per me pensare all'impensabile è creare uno spazio-tempo di condivisione nello stesso luogo, che è quello del teatro, più spesso, o un luogo pubblico dove si possa passare del tempo insieme. E in questo luogo, che è un luogo pubblico, creare intimità e, come ho detto, condivisione e ovviamente creare un momento di attenzione comune che possa essere tenuta dagli spettatori per un tempo dato.